Grazie a tutti. Che è qui questa mattina e continuate a lavorare in questa maniera per darci sempre queste sintesi e questo quadro così preciso. A voi dico grazie stamattina di essere qui, veramente con tutto il cuore. Grazie per le vostre testimonianze, per la vostra presenza. Ascoltando proprio la restituzione del questionario, come dicevo ho pensato ai tanti volti, ai tanti catechisti che incontro, che sto incontrando visitando le parrocchie, visitando le nostre comunità della diocesi. Ed è impressionante vedere la generosità che il Signore concede al vostro cuore, vedere l'amore che vi dona, vedere l'impegno che mettete nel servizio della catechesi. Ed è evidente anche la gioia che voi ricevete da quello che state vivendo, da quello che sperimentate. Davvero il Signore non si lascia vincere in generosità e pur tra tante difficoltà ci restituisce delle grazie enormi, veramente. Io credo che ognuno di voi potrebbe raccontare delle cose meravigliose, insomma, ecco, da quello che, come io ricordo, tante volte ho citato degli esempi, insomma, che mi porto nel cuore proprio dai primi mesi, dopo l'ordinazione sacerdotale, quando ero a San Saturnino e seguivo anche i piccoli o le medie, insomma, per la Cressima. Qualcosa ve la racconterò più avanti. L'incontro di oggi è una tappa del cammino sinodale della nostra diocesi. Come diceva Don Andrea, nelle parrocchie dove siete, insomma, siete stati interpellati come membri attivi della comunità. Quello che stiamo vivendo questa mattina qui è un aiuto per allargare lo sguardo sulla dimensione della nostra città. Voi siete i principali evangelizzatori di Roma. Cioè, Don Angelo, è grossa questa, no? E' così. Se noi guardiamo la nostra realtà, è verissimo quello che vi sto dicendo, no? I principali evangelizzatori di Roma. Pensiamo un po' a questo. Cioè, questa frase cerchiamo di assaporarla. Noi, come catechisti, siamo i principali evangelizzatori di Roma. Principali a livello numerico, perché siete tanti e perché tantissimi adulti e giovani sono accompagnati da voi. Principali anche per importanza, perché la catechesi strutturata è una forma di evangelizzazione fondamentale. Lo sappiamo bene. Siete i principali evangelizzatori di Roma. Cioè, affrontate quindi le sfide più grandi. Avete più di altri il polso della situazione. Sentite voi per primi l'inquietudine dell'annuncio. Quella che San Paolo esprime dicendo Annunciare il Vangelo è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Ecco, la sinodalità, detto più volte il nostro Vescovo, Papa Francesco, è uno stile da incarnare. È una conversione. E le tre parole chiavi di questa assemblea, come già abbiamo ascoltato abbondantemente, collaborazione, conformazione, corresponsabilità, sono aspetti dello stile sinodale. Quindi vorrei semplicemente con voi riflettere ancora su queste tre parole per cercare insieme le ragioni profonde nella fede. Di per sé non sono parole specificamente cristiane. Lavorare insieme, formarsi insieme, essere insieme responsabili di qualcosa. Ecco, non serve essere cristiani per vivere queste esperienze. Ma mentre per altri queste sono possibilità, per noi sono necessità. Quindi non possiamo essere cristiani senza il conno. Con lavoranti, conformanti, corresponsabili. E questo perché prima di queste cose noi siamo convocati. Cioè siamo chiesa. Chissà quante volte abbiamo fatto delle riflessioni su questo. Lo richiamo semplicemente. Convocati. Come sapete, la nostra parola chiesa viene proprio dal greco, ecclesia, cioè parola che traduce l'ebraico, kal, e sia in ebraico che in greco, questi termini significano convocazione. Cioè una chiamata a riunirsi. Una chiamata rivolta a molte persone a ritrovare questa dimensione del mettersi insieme. Quindi la vocazione siamo abituati a pensarla come una questione individuale. Generalmente noi ragioniamo così tante volte. Cosa mi chiama il Signore? Dio chiama me per una certa missione. In realtà basta pensare al Vangelo per cambiare idea. C'è per uscire da questa visione individuale. Nel Vangelo non c'è un momento in cui Gesù ha avuto un solo discepolo. Non c'è. Nel racconto dei Sinottici i primi chiamati sono due coppie di fratelli. Simone e Andrea. Giacomo e Giovanni. Nel quarto Vangelo i primi due che seguono Gesù sono Andrea e il discepolo amato. Allora vedete? Non c'è mai stato uno che potesse dire io sono il primo discepolo. In principio eravamo solo io e Gesù. Poi sono arrivati gli altri. Non è possibile. No, in principio erano già più di due. E non dimentichiamolo questo. Anche l'esperienza di chiamata più individuale e speciale che ci può venire in mente pensiamo a quella di Paolo sulla via di Damasco diventa immediatamente fraterna perché il processo di conversione non si compie senza l'intervento di Anania. Dio butta a terra Paolo lo rende cieco ma è Anania che su comando di Dio va da Paolo per guarirlo e risuscitarlo. Quindi Dio avrebbe potuto sicuramente guarire Paolo da solo ma non ha voluto perché la guarigione di Paolo consisteva proprio nel passare da essere un solitario zelante un persecutore del prossimo in nome di Dio ad essere un fratello. Questo passaggio doveva compiere. E Anania gli dice Saulo, fratello mi ha mandato da te il Signore. Quindi la chiamata è sempre alla fraternità. è sempre alla comunione. Ed è bellissimo questo. Tutti gli atti fondamentali che i cristiani fanno sono comunitari. La parola si ascolta insieme. I sacramenti si celebrano insieme. la preghiera è sempre in vocazione del Padre Nostro. Certo, il sì personale è indispensabile, ci deve essere. Ma la chiamata a cui io sto rispondendo è al contempo personalissima rivolta a me e comunitaria rivolta non solo a me. Quindi siamo chiamati insieme all'unità. I primi discepoli raccontano gli atti erano una moltitudine ma un cuor solo e un'anima sola. Allora la nostra prima vocazione è convocazione. Tutte le altre vocazioni sono successive e dipendono da questa prima convocazione e quindi non possono tradirla. Nessuna vocazione personale mi porta fuori dalla comunità ma sempre dentro la comunità con la comunità e per la comunità. Guardate, quando questo non avviene possiamo fare anche miracoli ma non sono fecondi per la crescita del corpo. Non funziona l'abbiamo visto insomma anche nella Chiesa nella storia persone di carismi straordinari ma vissuti individualmente niente poi non rimane niente. È così è una legge direi proprio fondamentale questa. Anche la vocazione di catechista funziona così il catechista evangelizza come membro della comunità e a nome della comunità. Quindi l'evangelizzazione è un atto comunitario non è individuale non può essere individuale. E allora queste tre parole sono veramente direi luminose indispensabili per quello che stiamo vivendo. così qualcosa di semplice ve la comunico prima di tutto quello che abbiamo sentito collaboratori gli uomini collaborano per tante cose per utilità comune o per un fine comune si può anche collaborare nel male si può essere collaboratori nel male coloro che evangelizzano sono collaboratori in Cristo Gesù ecco questa espressione è tratta dalla lettera ai romani di San Paolo in particolare è una frase dei saluti finali della lettera penso che ci sia nel libretto l'ultima pagina sono molti belli questi saluti perché Paolo dopo aver parlato di temi molto alti si dilunga nel salutare una a una tutte le persone che conosce della comunità cristiana di Roma ed è molto bello veramente commovente questo salutate Prisca e Aquila miei collaboratori in Cristo Gesù essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa e a loro non io soltanto sono grato ma tutte le chiese del mondo pagano salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa salutate il mio amatissimo e Peneto che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia dell'Asia salutate Maria che ha faticato molto per voi salutate Andronico e Giunia miei parenti e compagni di prigionia sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me salutate Ampiato che mi è molto caro nel Signore salutate Urbano nostro collaboratore in Cristo e il mio carissimo Stacchi si può continuare perché Paolo saluta molte persone sono 25 in tutto a ciascuna dedica una parola spesso manifesta proprio l'affetto per loro e Paolo ebbe molti collaboratori e amava citarli nelle lettere Silvano Timoteo Filemone Clemente Marco Aristarco Dema Luca di quelli menzionati nei saluti della lettera Romani soffermiamoci un attimo su Prisca e Aquila sono una coppia e Paolo li definisce suoi collaboratori in Cristo quindi la prima collaborazione tra loro è stata molto concreta lavoravano insieme perché facevano lo stesso mestiere erano fabbricanti di tende gli atti degli apostoli raccontano l'incontro che avvenne a Corinto tra Paolo e Aquila e Priscilla che erano stati cacciati da Roma a causa di un editto dell'imperatore Claudio e si erano stabiliti lì e quindi un incontro fortuito non cercato possiamo dire che Aquila e Priscilla sono capitati a Paolo come collaboratori cose che avvengono anche io sento racconti nelle nostre comunità si ripetono anche queste situazioni insomma nella fede possiamo dire che è il Signore che ci mette accanto le persone ma a volte non sono quelle che noi sceglieremmo immaginatevi quando Gesù ha inviato i dodici a due a due chi ha fatto le coppie e qualcuno non era facile di carattere pensate a chi è capitato con Giacomo oppure con Giovanni che volevano essere sempre i primi provate a immaginare a stare insieme a fare questo servizio non è facile anche tra i catechisti capita così tante volte a volte la relazione è molto bella altre volte è difficilissima le differenze caratteriali di sensibilità di esperienza possono essere scoperta e arricchimento reciproco ma in alcune occasioni anche un problema a nessuno è chiesto l'impossibile può essere che con qualcuno io per vari motivi non riesca proprio a collaborare ma è l'eccezione non la regola e comunque vale sempre la pena tentare la collaborazione tante volte ci sono delle sorprese anche perché uno diceva con quella persona non riuscirò mai eppure dopo un certo cammino insieme dice ma chi l'avrebbe immaginato siamo riusciti può essere utile riflettere proprio sull'espressione di Paolo siamo collaboratori in Cristo cerchiamo di credere che siamo in Cristo fratelli in Lui in Cristo io sono legatissimo a questa a questa espressione perché sento che qui c'è una ricchezza straordinaria basterebbe questa parola per tutta la vita per vivere bene in Cristo la relazione con Gesù non è una relazione accanto alle altre che abbiamo ma è una una relazione di interiorità reciproca per cui io sono in Cristo e Cristo in me e questo è vero per me come è vero per chi mi sta accanto vedete allora la comunione non la costruiamo noi cioè non è un frutto della mia buona volontà ecco perché sbagliamo e crolliamo tante volte ma la comunione è Cristo che la fa tra me e te perché siamo in Lui quindi collaborare in Cristo vuol dire lavorare insieme a partire da questa fede perché è in Lui che siamo fratelli la categoria di fratello ci aiuta perché descrive una situazione di condivisione non scelta nessuno si sceglie i fratelli le sorelle ci capitano ci può andare bene ci può andare meno bene e la fraternità è sempre un dono è un compito a volte ci chiediamo giustamente se la nostra vita personale sia coerente con ciò che annunciamo se la nostra testimonianza di vita sia autentica ma dovremmo prima preoccuparci della nostra testimonianza comunitaria le persone sia i bambini che i adulti che partecipano alla catechesi alle catechesi vedono che collaboriamo volentieri che ci vogliamo bene che ci stimiamo che ci aiutiamo che ci perdoniamo voi sapete quanto sono attenti a questo no? attentissimi e sono cose che loro percepiscono subito questa è la prima testimonianza da questo sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri oltre a questo impegno nella fraternità che è la base della collaborazione tra i catechisti ci sono anche degli accorgimenti pratici che possono aiutare a maturare uno stile di collaborazione qualcuno è stato già accennato ma mi sembrerebbe un grande dono potersi incontrare con una certa regolarità il gruppo dei catechisti dovrebbe avere degli appuntamenti fissi con cadenza regolare più frequente per coloro che sono impegnati nello stesso settore di catechesi questo è chiaro meno frequente per il gruppo intero di catechisti della parrocchia ma che ci siano questi appuntamenti almeno alcuni momenti durante l'anno in cui tutti i catechisti della parrocchia si incontrano insieme in modo da mantenere quello che diceva don Andrea questa visione condivisa questo orizzonte ampio che considera tutta la proposta della catechesi io sono stato viceparroco vi dicevo a San Saturnino dall'80 all'87 e più due anni come diacono quindi ho fatto dieci anni lì ma tra gli anni gli anni tra anche lui è stato per San Saturnino tra l'80 e l'87 una delle esperienze indimenticabili che noi abbiamo fatto come comunità parrocchiale è stata quella di aver scelto tutti gli anni una settimana fino agosto primi di settembre qualche volta a Santa Maria di Leuca perché io sono di quella zona quindi era era un motivo anche per me di far conoscere alla parrocchia le zone a cui ci tengo tanto e lì in una casa della diocesi una posizione bellissima naturalmente si faceva una settimana con tutti i catechisti di formazione e di scambio ma sono venute fuori delle cose meravigliose che ancora oggi ricordiamo come se fosse ieri insomma eravamo 120 130 persone quindi era una cosa bella naturalmente anche godendo della bellezza della natura insomma non solo delle riunioni quindi si cercava di dividere la giornata insomma bene ma sono state esperienze di grande aiuto per tutti a volte basterebbe poco insomma io so che non è solo questione vostra e anche bisogna spingere i preti a fare questo insomma perché non è una questione condivisa spero di riuscire insomma ecco anche a comunicare quello che è da fare insomma ecco ancora condividere le informazioni è utile e bello non solo decidere insieme programmare ma raccontarsi le esperienze i progetti condividere come si sta andando avanti le gioie le difficoltà vedo che il cammino sinodale sta aiutando anche in questo ecco alcuni penso in particolare alle catechiste del metodo del buon pastore per esempio hanno l'abitudine di fermarsi dopo ogni incontro per vedere come è andata è un'ottima cosa avere ancora dei coordinatori sia generali di tutta la catechesi che specifici dei singoli settori e qui vediamo ci sono delle cose belle in cantiere speriamo di poterle realizzare insomma anche con la figura del catechista istituito che magari potrà anche essere di grande aiuto all'interno delle nostre comunità ci vedremo con i vescovi italiani a fine mese e dovrà uscire anche dovremmo consegnare alla chiesa italiana questo piccolo documento sui criteri di discernimento di questa figura del catechista istituito questo per quanto riguarda la prima parola ancora un pochettino di pazienza ma ce la facciamo con i tempi sì possiamo fare poi conformati l'altra parola quindi proseguiamo con questo non l'altra con queste altre due parole la comune formazione e la comune responsabilità ecco sono importanti per specificare lo stile del nostro collaborare in Cristo e sono in contrapunto perché affermano due istanze contrarie ma complementari le vediamo la nostra collaborazione si nutre di una formazione comune non è un lavoro in parallelo ognuno per sé autonomamente in modo diverso quindi è stata bella avetevi sentito l'immagine usata da una catechista nella risposta a questa domanda è come se ognuno lavorasse il suo orticello ognuno con lo stesso zelo e fine ma ci fossero i muretti che impediscono lo scambio degli attrezzi allora per collaborare davvero dobbiamo scambiarci gli attrezzi abbiamo bisogno di una formazione comune che anzitutto vuol dire questo orizzonte comune uno stile una scala di priorità scelte metodologiche condivise naturalmente non è solo un accordarsi pratico conformazione è una parola importante nel cristianesimo siamo conformati e cerchiamo di conformarci questa è un'opera dello spirito è un'opera dello spirito prima di tutto ognuno di noi ha una forma personale che è il risultato del proprio temperamento delle proprie scelte della propria storia ma lo spirito santo che in noi agisce per portarci a una forma comune che è la forma del signore san paolo scrive che noi tutti a viso scoperto riflettendo come in uno specchio la gloria del signore veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello spirito del signore allora la grande occasione di formazione comune dei cristiani è la celebrazione dell'eucaristia con l'ascolto comunitario della parola la partecipazione all'offerta di Gesù mangiando tutti un unico pane e bevendo da un unico calice e poi c'è un senso più tecnico di formazione che per voi è la formazione al servizio di catechista ecco c'è da imparare un metodo e un contenuto ed è fondamentale assumere uno stile comune in modo che la catechesi parrocchiale sia globalmente coerente quindi quando parliamo di formazione comune non immaginatevi una formazione solo recettiva in cui c'è un esperto che vi dice come fare certo i maestri sono necessari anche nella catechesi ma dovete anche trovare la strada per autoformarvi come gruppo di catechisti cioè imparare insieme farsi domande aggiornarsi questo può essere fatto molti di voi lo fanno qualcuno di voi trova qualcosa come si diceva che lo aiuta e lo comunica lo condivide quindi a livello pratico la formazione ha bisogno dei suoi momenti dedicati senza voler essere troppo rigidi un conto sono le riunioni di programmazione e condivisione un conto sono gli incontri di formazione già voi siete degli eroi in alcuni aspetti perché con tutti gli impegni che avete molti di voi sono impegnati tantissimo già dedicate al servizio tante energie e non è sempre facile insomma mettere insieme le varie esigenze però sento che in voi c'è un forte desiderio di formazione e c'è la consapevolezza di non poterne fare a meno ecco questo desiderio deve essere portato avanti perché il servizio sia veramente di qualità alta avete coscienza che per fare discepoli come il Signore ci ha chiesto è necessario prima di tutto essere discepoli cioè avere un cuore sempre desideroso di imparare che nessuno si senta arrivato forse la più grande ricchezza che abbiamo lo sapete qual è di poter lavorare su noi stessi fino all'ultimo giorno della nostra vita poter lavorare su di noi l'ultima cosa è la terza parola corresponsabilità fa da contrapunto alla formazione comune se quella sottolinea l'unità questa enfatizza la diversità entrambe sono necessarie per collaborare la corresponsabilità illumina il significato della collaborazione non siete solo collaboratori perché questo potrebbe voler dire dei meri esecutori aiutanti non è così del resto non siete nemmeno liberi battitori come abbiamo detto parlando della formazione comune siete corresponsabili ha spiegato bene Benedetto XVI alcuni anni fa alla nostra diocesi quando diceva voi laici non siete collaboratori del clero ma corresponsabili dell'essere e dell'agire della chiesa ben diverso discorso di apertura del convegno pastorale della diocesi di Roma 26 maggio 2009 Gesù stesso non ha cercato nei suoi discepoli esecutori di un piano prestabilito ha cercato compagni di missione persone che assumessero su di sé la responsabilità la passione dell'evangelizzazione certo esistono gradi di responsabilità diversi questo è naturale secondo il proprio carisma è in carico ma di base tutti siete responsabili per tutta l'evangelizzazione nella vostra parrocchia non siete responsabili solo del vostro gruppo ma in grado diverso di tutti i gruppi di catechesi e non siete corresponsabili solo col parroco con il catechista con cui collaborate ma con tutto il gruppo dei catechisti ecco questa corresponsabilità non è un peso anzi è un prendere sopra di noi il gioco del Signore un gioco leggero se sei stato scelto come catechista vuol dire che hai la capacità di farlo in modo personale mettendoci del tuo perché la comunità ha fiducia in te e si aspetta da te che tu sia non un esecutore indifferente ma creativo ecco il segno della corresponsabilità è la propria creatività intesa non come fantasia individuale uno si alza al mattino e dice adesso no no ma come giovinezza e flessibilità nello spirito giovinezza e flessibilità e questo a qualsiasi età ci sono persone avanti negli anni che sono giovani e flessibili non aspettate passivamente che qualcuno magari i sacerdoti della parrocchia vi indichino cosa fare come farlo quando farlo ecco sentitevi corresponsabili insieme con loro di tutta l'evangelizzazione della parrocchia allora questo riflettere insieme questo confrontarsi questo dire la vostra questo proporre e qui mi viene in mente un'immagine evangelica e mi avvio a chiudere che mostra il contrario la negazione della corresponsabilità è molto direi presente a tutti noi pensiamo al figlio maggiore della parabola del padre misericordioso capitolo 15 di Luca quando il figlio minore torna a casa e il padre lo accoglie il fratello maggiore non vuole partecipare alla festa rimane fuori il padre esce per convincerlo e lui si lamenta dicendo quella famosa frase ecco io ti servo da tanti anni dicevo dentro di me che bel figlio avere un figlio così è pesante insomma e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici e il padre gli risponde figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo e il papa commenta così Gesù ci ricorda che nella casa del padre non si rimane per avere un compenso ma perché si ha la dignità di figli corresponsabili è l'udienza dell'11 maggio 2016 di papa francesco dio dice personalmente a te che servi la chiesa come catechista tutto ciò che è mio è tuo questo ci ripete il signore non viviamo da servi non abitiamo la parrocchia come un luogo dove qualcuno deve darci qualcosa o dirci cosa fare ma come casa nostra e guardate che girando nelle comunità questo sta emergendo sempre di più i ragazzi tutti stanno chiedendo questo insomma no? e credo che anche voi desiderate questo casa nostra cercando sempre la comunione con gli altri quindi viviamo da figli corresponsabili amando rispettando le responsabilità degli altri senza dimenticarci della nostra vorrei ancora con un'immagine concludere il mio intervento questa mattina ma prima ricordare ancora un proverbio africano spesso citato dal Papa per cui per educare un bambino ci vuole un intero villaggio per educare un bambino questo è tanto più vero nell'evangelizzazione perché per evangelizzare un uomo ci vuole un'intera comunità per evangelizzare un uomo ci vuole un'intera comunità la questione è quale forma di comunità abbiamo in mente lo Spirito Santo sta lavorando nella Chiesa di Roma io lo sento cioè le cose i processi si sono riaperti si sta ci vorrà tempo ma ma la forma ce la dirà lo Spirito Santo una cosa un'immagine che avevo intuito e che vi ho consegnato qualche anno fa nel 2018 che non è mia è di un monaco trappista che è morto padre Andrè Luff che ha scritto dei libri stupendi insomma in uno dei suoi libri parlando della comunità cristiana descrive quattro modi diversi di stare insieme usando l'immagine della frutta non so se ve la ricordate l'avevo un po' consegnata anche qui in Basilica credo e allora la comunità può essere come la frutta appesa all'albero sì ogni frutto cioè ogni cristiano è unito individualmente all'albero cioè al Signore ma con gli altri c'è una bella separazione no? ogni frutto sta per conto suo questa è una prima immagine oppure può essere come la frutta raccolta e messa in un cesto è qualcosa qui si sta muovendo almeno ci si sfiora insomma eccoci c'è un contatto la terza immagine era quella della frutta raccolta e frullata è la distruzione della diversità no? c'è proprio tutto uguale tutto piatto tutto non può essere questo la quarta immagine che ci dava questo padre monaco ve la ricordate? no? quale può essere? la? la macedonia la macedonia quella che rende meglio la forma della comunità no? il modello migliore è questo per fare la macedonia però occorre una cosa la frutta va tagliata ridotta in pezzi piccoli cioè bisogna accettare di perdere qualcosa di sé di essere ridimensionati per rinascere insieme a meno che diceva questo santo monaco uno non è già non è come la ciliegia la ciliegia è umile è piccola non c'è bisogno di tagliarla si può mettere direttamente così e ci sono anche queste queste figure luminose anche nelle nostre comunità ecco questa immagine vale per la comunità cristiana in generale ma tanto più per il gruppo dei catechisti il servizio comune chiede un di più di umiltà e di passione per accogliere la sfida di collaborare in Cristo allora cari vi auguro di non perdere mai il gusto di questa collaborazione il desiderio di formarvi insieme la certezza di essere corresponsabili della missione della chiesa della nostra chiesa di Roma in questo momento buon cammino e so che verranno frutti meravigliosi per i prossimi anni grazie 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 grazie